Il Mille Proroghe, il Superbonus, ma anche il decreto legge che contiene il Piano Mattei e poi le riforme e il sostegno italiano all'Ucraina, è un menu ricco, quello che attende le Camere al rientro dopo la pausa natalizia, una ripresa che impegnerà commissioni e aula a pieno ritmo fin da subito, visto i numerosi provvedimenti già all'esame. L'ultimo Consiglio dei Ministri, infatti, approvato il decreto Mille Proroghe, è quello sul Superbonus che arriveranno nei prossimi giorni in Parlamento per avviare l'iter di conversione in attesa della destinazione del Mille Proroghe, che verrà annunciato alla riapertura delle Camere la prossima settimana, è già stato assegnato il DL sul Superbonus che partirà da Montecitorio, dove è stato assegnato la Commissione Finanze. Sempre a Montecitorio, dove il calendario dei lavori non è ancora pienamente definito se attende la conferenza dei capi gruppo, che dovrebbe tenersi il 10 gennaio, si lavora sul decreto legge energia. Il provvedimento è all'esame della Commissione Attività Produttive. All'arrientro delle festività, i deputati saranno impegnati anche con la conversione del DL che contiene il piano Mattei, approvato il 19 dicembre dal Senato.